Sulle boscose rive del Prut, mentre le truppe romene in collegamento con le tedesche forzano con aspre i combattimenti il passaggio di questo fiume, scacciandone i russi dalla riva destra. Un ponte sul Prut fatto saltare dai bolshevichi in fuga. Le truppe romene transitano su passerelle e traghetti. Nella Bessarabia riconquistata. Nella Bessarabia riconquistata.